Infantino. Roma il 26 febbraio 2016 Gianni Infantino venne eletto presidente della FIFA e in occasione del settimo anniversario, il numero uno del calcio mondiale ha postato su Instagram un video per ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario afferma e mi hanno aiutato a rendere la FIFA un'organizzazione migliore. Adatta all'obiettivo di rendere il calcio veramente globale e unire il mondo attraverso il nostro meraviglioso sport. Sono a Parigi per preparare i best FIFA awards che andranno in scena domani ricorda il presidente della FIFA ma oggi è un giorno molto speciale per me. Sette anni fa fui eletto presidente, sette anni che sono volati come sette secondi. Avremo tempo per ripercorrerli e guardare anche i piani per i prossimi anni a venire. Per oggi sottolinea voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e hanno reso la FIFA un'organizzazione migliore. Chi si prende cura del calcio, del gioco, delle donne e degli uomini di tutto il mondo. Unendo persone con background diversi e fornendo anche felicità a milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo che sono appassionati e amano il calcio. È un privilegio essere presidente della FIFA, grazie a tutti per amare il calcio e renderlo quello che è. Qualcosa di magico. A presto, conclude Infantino. Virgola.